Nessuna autorizzazione all'apertura, totale assenza del piano di sicurezza alimentare, cameriere mai regolarizzate, una persino priva del permesso di soggiorno. E' questa la situazione scoperta dagli agenti della Polizia Locale della Federazione del Campo San Pierese in un bar di Via Signoria ad Arsego, frazione di San Giorgio delle Pertiche. Un locale completamente abusivo era infatti quello gestito da una 47enne di nazionalità romena, residente a Piombino Dese, subentrata da poco nella gestione del locale. La nuova titolare di fatto gestiva il bar senza aver presentato la comunicazione obbligatoria di subentro nell'attività, documento indispensabile per dimostrare di avere i requisiti necessari per la conduzione di un pubblico esercizio. Mai registrata la Camera di Commercio, l'azienda impiegava anche i lavoratori in nero. Durante i sopralluoghi infatti i vigili hanno trovato una prima volta una giovane cubana che agli agenti aveva detto di essere in prova, mentre il giorno successivo dietro al banco vi era un'altra giovane di origine brasiliane sprovvista persino del regolare permesso di soggiorno. Il locale inoltre è risultato irrispettoso delle norme obbligatorie in materia di sicurezza alimentare. L'attività è stata sospesa alla 47enne romena denunciata e multata con una sanzione superiore ai 5.000 euro.